...di rene. È la cosa, forse, una delle caratteristiche più belle di rene. Ti travolge perché è vera. A farle da Porta Fortuna è stato proprio un gigante della moda e dello stile, Re Giorgio. Da protagonista di un cortometraggio dedicato a un simbolo del mondo armani, la giacca, Greta Ferro, la uniforme, il mio correttore è il luminosì. E' molto trasparente, quindi questo mi permette di rendere la pelle omogenea e dare risalto magari al tipo di incarnato che ho io, che è molto chiaro, però senza che diventi una...